Benvenuti alla seconda puntata del nostro format BP Cube in forma. Oggi parleremo di giovani, territorio e networking, come capitalizzare sui giovani per un nuovo rinascimento delle Marche. Abbiamo con noi Nicola Baiocchi, avvocato e consigliere per la Regione Marche, ed Enrico Battistelli, fondatore di BP Cube, incubatore certificato e co-working che ci ospita. Grazie per essere qui. Grazie per l'invito. Grazie. Ma prima di entrare nello specifico della nostra interessante chiacchierata, è doveroso dare qualche importante in formazione di base. Nicola, un curriculum è importante e tante novità nell'ultimo anno, soprattutto nel 2021. Sì, un anno sicuramente molto importante, un cambio in regione storico, un risultato importantissimo. Adesso è il momento di far vedere quello che abbiamo sempre cercato di manifestare con il nostro programma elettorale e con il nostro presidente Francesco Acquaroli, e la maggioranza di centrodestra all'interno della Regione Marche. Chiaramente è un momento difficile dove la linea è dettata purtroppo dalla pandemia e tutto ciò che ci sta circondando in questo momento, ma è il momento di stare uniti e cercare di portare avanti insieme tutte le politiche importanti per le persone e per le famiglie. Enrico, uno spazio di co-working unitamente all'incubatore certificato, rappresentano un grande catalizzatore di talenti? Assolutamente sì, è un luogo innovativo, come ci piace definirlo, e Innovation District è un po' quello che lo rappresenta al meglio. Quindi è uno spazio di co-working in cui tantissimi possono vivere questo spazio come professionisti. Abbiamo 38 box e la possibilità di ospitare oltre 100 scrivanie, quindi 100 professionisti dedicati al digitale, che ogni giorno possono qua lavorare e trovare le consulenze dalla parte dell'incubatore. Nicola, qual è il livello di attenzione della Giunta della Regione Marche nei confronti dei giovani come potenziale motore di ripresa economica? Sin dalla campagna elettorale il Presidente Acquaroli e tutti noi candidati consiglieri allora abbiamo sempre manifestato una forte attenzione al mondo giovanile, al mondo imprenditoriale giovanile, al mondo dei certificatori come l'azienda che in questo momento rappresenta Enrico, e c'è tuttora una forte attenzione verso questo mondo, verso le potenzialità di sviluppo di questa materia e di tutto il percorso giovanile all'interno della nostra società. L'Innovation District è un luogo di sviluppo di idee e di talenti, è uno spazio che accoglie idee innovative, giovani imprenditori, ma possiamo un attimino contestualizzare quali sono la mission e il valore, il vantaggio per i giovani imprenditori? Certo, questo luogo rappresenta innovazione perché quello che diciamo il core business è appunto il digitale e quello che è innovazione digitale, come l'innovazione digitale entra anche nei consueti lavori, nelle consuete attività che la nostra provincia e regione stava già animando, ma in maniera innovativa perché i giovani sono insieme in degli spazi non più divisi da pareti ma molto aperti, molto ampi, dove praticamente ogni giorno è lavorare in sinergia con tutto il network che è di fianco, quindi una nuova strategia per fare network, per conoscersi e per migliorare, pensate alla flessibilità di avere un team che oggi serve magari minimo, minimale di tre persone, domani serve di 30 persone, noi veramente nottetempo riusciamo a creare questo team, dargli forma e utilizzarlo per le necessità del mercato. Interessante. Nicola, lei cosa pensa in merito? Penso che questa esperienza è assolutamente molto bella e formativa per questi ragazzi che devono confrontarsi nel mondo del lavoro e tutta la regione Marche, il mondo imprenditoriale in genere ha bisogno di queste forme aggregative dove si sviluppa maggiormente la creatività di questi ragazzi per metterla poi al servizio del mondo imprenditoriale con nuove idee, nuove forme di pensiero e questa contaminazione interna è assolutamente positiva, quindi benvengano tutte queste iniziative finalizzate a portare uno sviluppo economico e una formazione per un nuovo ingresso nel mondo del lavoro per questi ragazzi. La fuga dal territorio è un fenomeno che impoverisce particolarmente la nostra regione, che vede i giovani emigrare alla ricerca di nuove opportunità. È un fenomeno irreversibile? Non è assolutamente un fenomeno irreversibile, di irreversibile c'è poco, bisogna sempre cercare di utilizzare tutti gli strumenti affinché si possano migliorare queste cose. I numeri purtroppo sono impietosi, della fuga di ragazzi verso altre regioni, altri lidi, pensando che le opportunità di lavoro possono esistere solamente in regioni molto più sviluppate delle nostre, come parlo con le regioni del nord. Ma in realtà non è così, noi dobbiamo creare quel territorio nel territorio nostro, quel terreno fertile affinché questi ragazzi da un lato possano rimanere qua e anche lo smart working ci aiuta molto adesso in questa nuova realtà. Cerchiamo di cogliere dall'esigenza dello smart working che è nata purtroppo dalla crisi pandemica, cercare di cogliere quelle opportunità affinché i giovani possano rimanere qui, ma soprattutto anche che giovani o aziende possono venire a lavorare e a investire nei nostri territori. Realtà come BP Cube e i suoi partner possono rappresentare il driver di inversione di questa tendenza. Come possono le istituzioni supportare tale iniziativa? Allora, le istituzioni possono, sia con questa azienda ma anche con tutti coloro che svolgono questa attività importantissima nel territorio, cercare come dicevo prima di creare quelle condizioni affinché questi operatori siano in grado di avere degli strumenti utili per poter utilizzare. Perché giustamente loro chiedono attenzione da parte delle istituzioni, attenzione che sicuramente ci sarà e la presentazione ad esempio della legge sulle start-up, già in questo momento in discussione come prima mandata nella commissione competente, è la dimostrazione di una forte attenzione che in un momento del genere, di difficoltà, dove l'attenzione purtroppo è finalizzata quasi tutta sulla crisi pandemica, giustamente dobbiamo pensare che oltre alla crisi pandemica dobbiamo andare avanti e dobbiamo creare le condizioni affinché questi giovani, queste imprese possano lavorare. Smart Working è il nuovo paradigma del lavoro. Possiamo sviscerare qualche informazione? Possiamo anticipare qualcosa in merito all'integrazione di D106 in BP Cube e anticipare qualcosa in merito al nuovo sito, al lancio del nuovo sito? Certamente, BP Cube diventa Innovation District, è un percorso in qualche modo obbligato ma in qualche modo molto bello perché rappresenta l'arrivo di D106 come start-up innovativa ad un compimento superiore. Infatti D106, nostra creazione, viene inglobata da BP Cube e quindi ci ritroveremo nella stessa, diciamo, grande casa tutti insieme e giustamente BP Cube diventa tutto ciò, diventa co-working, diventa incubatore, lo faceva e adesso lo farà ancora meglio. Mi riallaccio anche alla domanda precedente a Nicola che giustamente dove dice la regione sarà un perno principale, noi ci crediamo tantissimo in tutto ciò e soprattutto ricordiamo che regioni del Nord Italia ne hanno creato un valore aggiunto di questi luoghi, ne hanno fatto una roccaforte per i giovani, quindi non vedo perché noi come regione Marche non dovremmo puntarci e non dovremmo utilizzare proprio questi luoghi per diventare così ugualmente importanti per i giovani. La regione è la valorizzazione dei talenti, qual è l'approccio della regione nei confronti dell'innovazione in collaborazione con gli incubatori certificati? Sarà un lavoro secondo me molto importante, l'assessore Carloni sta mostrando tantissima attenzione su questo tema e di confronto con le aziende e penso che l'idea e la linea della nuova giunta regionale sarà proprio quella di finirla con finanziamenti a pioggia ma cercare di valorizzare quelle aziende, quei territori, quelle esperienze e quei professionisti che mettendo insieme la loro professionalità e creatività possano portare qualcosa di veramente di un valore aggiunto da poter finanziare e da poter aiutare ma non finanziamenti dati a caso solamente per cercare di portare qualcosa ma in realtà situazioni che portavano veramente poco. Grazie, grazie per queste importanti informazioni. Siamo giunti al termine della nostra interessante chiacchierata ma prima di salutarvi vorrei anticiparvi l'argomento della prossima puntata. Parleremo di Confindustria e supporto all'innovazione, start-up e di contest come elemento di spinta ed opportunità per il lancio di nuove imprese. Ospite Mauro Papalini, Papalini S.p.A. e presidente Confindustria per Pesaro Urbino. Ma prima di salutarvi vorrei ringraziare i nostri ospiti, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie, grazie a tutti voi. E arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.